Dichiarazione che non ho rendicontato. Com'è stato questo incontro con Grillo? Venutente, venutente. Sperava che facesse una marcia indietro? Sì, sinceramente sì. Abbiamo telefonato a Massimo Artini ieri sera, al termine di una lunga giornata, cominciata con un post al vetriolo sul blog di Beppe Grillo. Massimo Artini e Paola Pinna sono accusati di non aver fatto correttamente il rendiconto. E qua si chiede alla rete il voto. La votazione sarà attiva fino alle 19. Sono passati pochi giorni da un'altra polemica, quella che ha coinvolto Walter Rizzetto, Tancredi Turco e Sebastiano Barbanti, rei di aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Mi dispiace, non c'è nessuno strappo, mi dispiace per quelli che ci credono. No, no, non ci chiediamo, non ci chiediamo. È un caso che voi andate in televisione, poi Grillo viene fuori su questa vicenda dei rendiconti proprio adesso. Una volta se era il vecchio Adaso che recitava che si parli bene o che si parli male, si parli male, l'importante è che se ne parli. Sono le 18, manca un'ora alla fine delle consultazioni online. Laura Castelli nel frattempo su Facebook spara a zero. Noi cittadini dobbiamo togliere le mele marce. Casaleggio, la sua staffa, ha deciso di distruggere il 5 Stelle perché è palese che sta cercando di cancellarlo. Anche una velocità che, devo dire la verità, mi sta impressionando. Non c'è nessuno di voi che pensa a un nuovo leader? Se Pizzarotti vuole diventare leader, credo che questo sia il momento in cui lui sia costretto ad uscire perché è il momento di prendere la decisione. Lei lo sosterrebbe? E proprio Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, già ai ferricorti con Grillo, su Facebook prende le difese di Artini e Pinna. Allora, ecco i risultati. Hanno partecipato alla votazione 27.818 iscritti. Ha votato sì il 69,8%, ha votato no il 30%. Sono fuori. Risultati in tempi record. Il 19.05 avevate già. È un file Excel. Noi siamo stati mandati qua per fare determinate cose. Noi lo facciamo, io personalmente e tanti altri miei colleghi, lo facciamo dalla mattina alla sera. Purtroppo c'è qualcun altro che pensa altro. Ci sono delle grave violazioni, secondo il codice di comportamento, tra cui quella di non rispettare quella che è una decisione che era stata presa in precedenza. Per cui questa è una delle grave violazioni, è stata posta in votazione e questo è stato l'esito. Esce un'agenzia. I ribelli vanno a parlare con Grillo, una delegazione guidata da Artini per chiarimenti su Postelblog. Il faccia a faccia con Grillo a Marina di Bibbona dura alcune ore. A casa del comico ci sono sette parlamentari. L'incontro si conclude. Ma resta l'amarezza. Come è stato questo incontro con Grillo? Benutenti, benutenti.